Mi fai legato verso le due e mezza alle tre di notte, proprio sul più bello. Odia di non bere, non è questo non di bere, è proprio una... Eh signore, è vero? Vanno sulle due e mezza alle tre... Ah! Porca miseria, te devi alzare a mezzo il suo dolido. Sbatti sulla prima volta l'armadio, poi apri sta porta piano piano. E mentre sei in mezzo al corridoio, a proposito di figli, sente una voce, se sente una voce che dal mezzo al corridoio ti fa Ciao papà, io vado, eh! Ma fai due, uno, suoi tre. No, c'è una serata in discoteca. Ma suoi tre. Eh, ma avrai due. Allora sbrigate che fai tardi. E questo diceva, scusa, allora tu rimani un po'. Ciao papà, oh, mi raccomando, puoi far altro, puoi far altro. Mi raccomando, che fai, puoi far altro. Senti che chiude la porta, e tu rimani in mezzo al suo corridoio che ancora devi... E stai così e dici, ma mo' che cazzo, che faccio? Non sai se uscire, se guirlo, non si può. Poi mentre fai così, ti cominci a grattare la fronte e alla fine del corridoio, oltre al bagno che c'è, c'è il porta chiavi dove avete tutte le chiavi attaccate. Tutte le famiglie di Italia ce l'hanno. E mentre fai così e pensi, ma questo dove va? A quest'ora t'accorgi che t'ha preso le chiavi della macchina tua. C'ho visto che t'ha trovato una macchina grande, perché c'è un MF1 dove va? E mentre tu stai lì che ti preoccupi e ti fai domande a quel punto inutili, lui sta bello di fuori che ha la macchina tua. oltre al spettorato con questi quattro vedi di fuori. Entra dentro a sta discoteca, stai giù te sto rompendo i bambini qua dietro, che con quattro guardi ce parlano di tutto, ce ne fai niente, entri dentro a sta discoteca e se metti là dentro ti fai portato al vortice, brevi, 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 niente, succede niente. Dopo un po' ti accorgi però, mentre stai in discoteca, che la ragazzina che da quando sei entrata sta lì e te guarda, scettarina, questa da tu per fare romante, per fare qualcosa, vinci a bere, poi ne ho qualcosa da bere, e questa non te sei fila, perché per la prima volta è così, non te sei fila per il primo quarto d'ora. Però intanto vai lì con cognacchino, poi ci ritorni con una birra, poi ci ritorni col vino. Quando c'è scatenato dopo otto volte di quel sistema, seppure un uomo non te ne accorgi più. Però è uguale, tu sei lì. Nel frattempo, nella discoteca c'è il più coglione di tutti, che arriva e te ha una pasticca. Dice, oh, puoi provare questa stasera, questa? Ma chi è una pasticca questa stasera? E ti fai pure quella, dice, l'altro ormai c'è stop, che gli fa? E allora niente, ti cominci a bere, così, bam, boom, pasticche, cose, bam, bim, hai perso i cinque meno un quarto, dici, devo andare a casa, almeno ai cinque vado a casa. Cinque e mezza, cominci a vedere la porta d'uscita, che ti comincia a sparellare, perché non ci riesci manco a prenderla a sta porta, dice, se è vero, per me uno cira, devi passare qua a sta porta, riesce a uscire da questa discoteca, e mentre esci dalla discoteca, c'è sempre quella ragazzina che sta lì e ti guarda. e ti fa, ci andiamo a fare un giro, capirà? Quella è più scemo di lui, perché quella ha preso una pasticca, lei ne ha prese otto, gli dista proprio. Allora lui dice, ma te sei in macchina? È certo che sto in macchina, fa, ma non c'è la parcheggia, da che cagli sta macchina nuova, nuova, c'avevo, bella. E lui gli fa, prego, sale, questa c'ha massa che macchina, ma è tua? È certo che è mia, ma non è che niente, niente è tu, padre. Evi padre, capirai, quello manco guida più, ma guarda evi padre. E allora tu sei grande, sei forte, se ne accorta pure lei che sei bello, forte e cagliato, c'hai una macchina forte, sei forte. Sali su sta macchina alle 5 e mezza di mattina, si accis l'acceleratore e cominci a partire. E tu vai, 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 vai. Questa è una macchina, dove andrà domani? Tanta fretta nelle gambe e sempre dentro i guai. Questi figli, questi figli, Un maglietto, gis di moda, mani in tasca, musica in bagnole, questi figli, se non so sbagli, gridano con tà, se prezzi di tristi e allegri, e chi li capirà? Quanti affanni, questi figli, le privazioni e noi, con gli amici e la testa, non li fermi mai. Che ora abbiamo fatto, non c'è tanto pensare, in fondo al mondo come noi. Ci perdono nel cuore, ma se si vede una luce, scogliare e fuggirare, Gesù, fammi dormire. Domani a lavorare. Questi figli, senza sbagli, gridano con noi. Noi vieti, noi consigli, che sparano le idee. Tutti uguali, questi figli, sudano i miei, con gli amici e la testa, non li fermi mai. Ma lei, che ora devo fare, non vorrei pensare, in fondo al mondo come noi. Mi tengo nel cuore, ma chissà poi io come ero. Oh mamma mia, questi figli, Gesù, fammi dormire. Guai a te, se mi ritorno. Grazie. 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 Grazie.